Vado incontri ravvicinati, oggi sto da Enzo Delvi e chi troviamo? Il mitico Peppino. Amici, questo è uno spot voluto e dovuto. Prego. Chi si trova, chi non si trova, si arrangisce. Comunque sabato sto alla villa del castello con Enzo Delvi e Lello Horus. Mi dico, facetemi cantare. Sennò, lascio tutte cose e me lo vado. Ma avete fatto come se è e mi avete fatto finire. C'è un'altra volta, chiedete a Enzo, chiedete a Enzo e chiedete a Enzo. Ci vediamo sabato, Barletti e Aves. Ciao Peppino, auguri per i tuoi 80 anni. Ma all'81 questo è già facendo. Ciao Peppino, grazie. Bene ragazzi. Ciao Peppino. 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 Ciao Peppino.